Nadia e Francesco adesso presentano un pezzo di grande atmosfera. E' certo l'Adagio nella versione di Mina e quindi dalle voci l'interpretazione di Nadia e Francesco. Adagio! Parla piano stasera o gli altri capiranno di noi, balliamo, ma non stringerti ancora nel buio, vedo gli occhi di lei. Adagio, no, non farle capire che il cuore scoppia dentro di noi, non deve cominciare a soffrire se d'amore non è colpa. Direi Amore, non guardarmi, così non puoi guardarmi, oppure non ce la farò. Amore, non puoi guardarmi, così non puoi guardarmi, così non puoi guardarmi. Amore, non puoi guardarmi, così non puoi guardarmi, così non puoi guardarmi. L'ora il mondo è là fuori, lo sai ad agio, mi ando ad agio stasera nel mondo, tu ritorni con lei. Amore non guardarmi, così non puoi guardarmi, oppure non ce la farò, sul collo il tuo respiro, ormai mi fai pazzire, ti prego non lo fare, no, morirò. Morirò 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 Morirò